Non Solo 25 è un progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità che vuole sensibilizzare sul tema delle pari opportunità e contro la violenza di genere. Oggi inauguriamo un simbolo che vogliamo insieme al Comune di Paceco lasciare sulla piazza di Paceco e rientra in una campagna di sensibilizzazione che il progetto e la rete Non Solo 25 hanno promosso per coinvolgere anche altri comuni che non fanno parte del progetto durante questa settimana che porta al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne per unire con un simbolico filo rosso tutti i territori, tanti comuni con un simbolo nello specifico dipingendo una panchina rossa all'interno dei loro territori. Noi stiamo per scoprire un'opera che è stata realizzata dagli alunni della scuola secondaria del nostro istituto guidati dalla professoressa Arianna Maggio e speriamo che possa essere un segno per riflettere e soprattutto per dire no all'indifferenza e perché passando da questo luogo si possa avere contezza di quello che non si dovrebbe mai sentire.